Ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale e in quel caso vi invito a iscrivervi Oggi parliamo di Elemental, il nuovo film Disney Pixar Piccola intrusione nel video, semplicemente per scusarmi se durante questa recensione io ho fatto degli errori grammaticali Ma sono tipo le due di notte quando sto girando questa recensione, sono veramente stanco Ma ci tenevo a portarla il prima possibile e a dirvi tutto quello che io penso di questo film Ovviamente no spoiler, quindi se ho fatto qualche errore a livello di grammatica, perdonatemi, insomma, buona visione Ancora una volta Disney e Pixar ci sorprendono con un lungometraggio che non è necessariamente rivolto solamente a un pubblico diciamo composto da bambini Ma è un film veramente veramente profondo che riesce ad emozionare anche un pubblico un po' più adulto Di cosa parla questo film? In superficie diciamo che parla di questa città Element appunto Dove gli abitanti sono caratteristici perché appartengono a uno dei quattro elementi che compongono il mondo Cioè acqua, fuoco, terra e aria Tutta la storia poi è incentrata attorno a due protagonisti che sono Ember doppiata da Valentina Romani E Wade che è doppiato invece da Stefano Di Martino Ember è un fuoco, è una ragazza di vent'anni più o meno e appartiene al genere del fuoco E Wade invece appartiene al genere dell'acqua Quindi c'è questo problema che loro sono esattamente l'opposto La storia poi vera e propria ruota principalmente attorno al personaggio di Ember Praticamente Ember è figlia di due genitori che vivono a Fire Town Figlia di due immigrati che hanno lasciato la loro terra per trasferirsi ad Element E lei è devota a questa famiglia in quanto i genitori appunto hanno dovuto fare tantissimi sacrifici E tantissime rinunce per poter permettere alla figlia di comunque vivere una vita felice Ed è tanta la devozione che ogni giorno Ember vive la sua vita volendo dimostrare al padre Che lei è in grado di ereditare questo affetto Cioè di meritarsi tutti i sacrifici che loro hanno fatto per poterli ripagare un giorno Loro hanno un negozio, un focolare E praticamente questo negozio è gestito attualmente dal padre, aiutato dalla figlia Ma il padre cerca di responsabilizzare la figlia il più possibile per lasciarle in eredità il negozio La figlia però ha dei problemi diciamo nella gestione della rabbia Se così lo vogliamo dire Nel senso che nonostante sia una ragazza molto intelligente Una ragazza sveglia, astuta Quando perde la pazienza va letteralmente in escandescenza E questo le porterà un po' di problemi Ed è quello che poi la porterà a conoscere Wade Da lì i due dopo essersi conosciuti cominciano questa avventura Per risolvere un problema che si viene a creare Cioè una dispersione d'acqua all'interno del negozio dei genitori di Ember Che mettono in risalto alcune falle, alcune irregolarità appunto del negozio dei genitori di Ember Il negozio quindi rischia di chiudere Quindi i due cominciano questa avventura per evitare la chiudere di questo negozio E non mi spingo oltre perché rischierei di fare spoiler e non voglio assolutamente farli Perché quando ho detto all'inizio, quando ho cominciato a parlare della trama ho detto in superficie Perché questa realtà è la trama principale È quello che il film d'animazione ci mostra superficialmente, visivamente Ma poi i significati diciamo nascosti, celati dentro questo film sono tantissimi Infatti la pellicola tratta temi come l'immigrazione, la differenza appunto di provenienza, di etnia O anche il sentirsi le ali tarpate, il sentirsi costantemente in dovere nei confronti di qualcuno E non inseguire propri sogni Sono tutti temi talmente profondi, così tanto profondi Che magari non ti aspetti all'interno di un film d'animazione destinato ai più piccoli Ma sappiamo bene, è successo anche con Inside Out, con Up e con tanti altri Che ormai i film d'animazione sono destinati un po' a tutti Perché in base alla fascia di età e alla propria esperienza e al bagaglio culturale Puoi leggere dei messaggi tra le righe E questo secondo me è la vera forza di questo tipo di film C'è una frase bellissima che a un certo punto viene detta nel film Cioè Wade dice a Amber Forse il fatto che tu ti arrabbi così tanto Il non poter contenere la tua rabbia Il fatto che tu vai in escandescenza È perché il tuo corpo, la tua mente Ti sta dicendo qualcosa che tu non vuoi sentirti dire Cioè qualcosa che tu in realtà avresti bisogno di sentirti dire Ma che non ti dici E questo credo sia il perno centrale Attorno al quale poi ruota tutto il significato di questo film Cioè a volte ascoltarsi Fermarsi ad ascoltarsi A capire veramente cosa si vuole È l'unica via da seguire Non a volte, anzi Sempre è l'unica via da seguire Solo che spesso ci facciamo condizionare da tantissime cose Ma anche dal pregiudizio Dalla paura di come gli altri possono giudicarci O dalla paura di sentirci incompresi Di rimanere soli Da tante paure Che poi vanno a annebbiarci i pensieri A annebbiarci la vista E non farci vedere veramente quello che noi vogliamo Quando poi ci rendiamo conto Che se apriamo gli occhi E scopriamo Quanto è bello E quanto desideriamo Quello che realmente vogliamo Poi la strada per arrivarci Anche se è difficile Diventa semplicissima Perché veniamo spinti da questo forte desiderio di realizzarci Ed è questo penso quello che il film voglia dire Cioè non perdere mai la speranza Non farsi mai abbattere da nessuna cosa Da pregiudizi Da niente E cercare di inseguire sempre i propri sogni E trovare sempre la propria strada Perché lì Quando sentiamo anche Un forte dovere Di dover accontentare qualcuno Bisogna forse fare una scelta un po' egoista E mettersi in primo piano Anche se l'affetto L'amore La voglia Ci porta A questa sorta di veramente devozione Verso l'altro Cioè Amber lì È proprio devota ai suoi genitori Perché si rende conto Che i suoi genitori hanno fatto di tutto per lei Che tutto quello che hanno costruito Anche il fatto di essersene andati Dalla propria strada Lo hanno fatto Per poter permettere un futuro alla figlia E quindi la figlia è cresciuta Con questa sensazione di devozione Ma anche con questo debito Diciamo da dover saldare con i genitori Quando poi in realtà Questo la stava un po' portando fuori strada Cioè le stava facendo Dimenticare Veramente quali erano i suoi sogni E quindi credo che Il messaggio più bello Che lancia questo film È quello di inseguire i propri sogni Cioè fare in modo Che nessuna cosa Si possa mettere davanti Alla propria felicità Perché la propria felicità Viene prima di tutte Perché poi Essendo in primis Felici noi stessi Possiamo Innanzitutto vedere tutto Nel migliore dei modi Possiamo trovare le soluzioni A problemi Che ci sembrano insormontabili E soprattutto Le persone che ci vogliono Veramente bene Vogliono vederci felici Non hanno Il minimo interesse A vederci Costretti In una situazione Che non ci piace E tutti questi messaggi Sono molto belli E forse Non sono così facili Da cogliere Per un Per un pubblico Più piccolo Ma mi è piaciuto tantissimo Vedere in sala Tantissimi genitori Che accompagnavano i figli E che erano Partecipi Nella Nella proiezione Nella visione E voglio sperare Che una volta usciti Dalla sala I genitori Provino a Far leggere Il film A loro figli Con altri occhi A farli andare Più in profondità Perché secondo me Se a noi Più grandi O agli adulti Questo film arriva Potrebbe arrivare Ancora di più A chi è più piccolo Perché se impara Sin da piccolo Determinati valori Si troverà sicuramente Meglio Un giorno A vivere la propria realtà E a vivere nel mondo Anche perché ripeto Il film tratta anche temi Come il razzismo La discriminazione Il sentirsi inferiore Rispetto ad altri E questi sono tutti temi Che ovviamente Vengono trattati Con leggerezza Visto il target A cui si riferisce Visto che è un film D'animazione Che parliamo sempre Di Disney e Pixar Ma quella leggerezza Che comunque Se viene percepita Fa riflettere E questi secondo me Sono tutti punti di forza Assolutamente del film Poi La colonna sonora Bellissima Il tipo di animazione Stupendo Vabbè ma sappiamo bene Che la Pixar Se poi si unisce Con la Disney Mette Veramente Visivamente Crea dei capolavori Veri e propri Stefano Di Martino E Valentina Romani Pazzeschi Cioè Incredibile Il loro doppiaggio Credetemi che io Mi ero dimenticato Che Stefano Di Martino Non mi Non mi sarei mai Aspettato E mi ero pure Dimenticato Che fosse lui A doppiare Uno dei due protagonisti L'ho praticamente Riletto poi Informandomi un po' Dopo essere uscito Alla sala È veramente bravo Cioè Pazzesco Il doppiaggio Così come Pazzesco Anche Valentina Romani Che è praticamente Nadizza Di Marefuori Che è lì Tra l'altro Lei è romana Lì fa un accento Napoletano Marcatissimo E qua invece Parla in dizione Perfetta Cioè Pazzesco Veramente Veramente Scelta anche Dei doppiatori Azzeccatissima Ma di tutti Mi è piaciuto molto Anche l'idea Di far parlare Con accento asiatico I genitori Di Ember Proprio per Marcare Ancora di più Questo fatto Dell'immigrazione Cioè Della lontananza Alla propria terra Del sentirsi Estranei Del non parlare Benì Con un accento Proprio italianissimo Tutti Questi dettagli C'è una cura Dei dettagli In questo film Che è Pazzesca Ma veramente Sia a livello Di contenuto Quindi di trama Che di scrittura Ma sia anche A livello visivo E curato Nei minimi dettagli Non so se si è capito Insomma Mi è piaciuto tantissimo Questo film Mi ha gasato A me ultimamente Mi piacciono tantissimo L'animazione Disney e Pixar Secondo me Non ne sbagliano una Mi piacciono Perché Perché Sembrano leggeri Ti fanno un po' Tornare bambino Ti fanno ridere Perché qui si ride Ma Forse Appunto Ripeto Per noi Che abbiamo una certa età Fa anche molto riflettere E secondo me Quando Ti fa sognare Un film E ti fa anche riflettere Un film del genere È La chiave Perfetta Per Acchiappare La più ampia Fetta di pubblico E fare in modo Che Come ho detto all'inizio Per ogni fascia d'età Vengano letti Determinati messaggi Quindi io Assolutamente Vi consiglio la visione Perché Davvero Non me ne pentirete Io come sempre Non posso far altro Che ringraziarvi Per aver avuto La voglia E la pazienza Di guardare anche Questo video Vi invito come sempre A iscrivervi al canale E attivare la campanella Per non perdervi Nessun contenuto E vi invito anche A lasciare un like Al video Perché per me È davvero Davvero importante Fatemi sapere inoltre Con un commento Qua sotto Mi raccomando Commenti non spoiler Se avete già visto Il film Se lo andrete a vedere Se lo aspettate Se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Insomma Fatemi sapere Tutto quello Che pensate Su questo film Con commenti Non spoiler Se invece Vogliamo parlarne Tranquillamente Come sempre Potete seguirmi Su Instagram E contattarmi In direct E lì ne parliamo Senza fare spoiler A nessuno E io vi aspetto Al prossimo video Dai yeah